ciao sono Rocco Tanica del complesso Gli Elio e le storie tese sono indignato perché ho acquistato quattro copie di pixel di Marco Bianchi e ci sono rimasto male perché è una musica così bella che alla fine sembra orrenda e questo ti mette in uno stato d'animo di soggezione da una parte e disillusione disincanto dall'altra quindi voglio i miei soldi indietro ma non vi ridò i dischi questa ho pensato fosse la soluzione migliore ciao